Secondo me è stata un'escalation, da Pechino in poi pensavamo di non poter trovare un altro programma altrettanto pazzo e invece è sempre peggio, sempre peggio. Poi te alla fine in due anni abbiamo fatto quello che non avremmo mai fatto in una vita intera. Vero. Perché non so, 55 esperienze avremmo fatto, non lo so. Io sembra che siamo partiti 10 anni fa per questo programma. Infatti il mio contornocchi mi ha lasciata, mi ha detto ciao, io sono invecchiata di 10 anni facendolo però ho collezionato un sacco di ricordi brutti e anche divertenti dai. Sì, molto, molto, tutto, paura, risate, divertimento, abbiamo fatto tutto. Tutto. Guarda, la produzione è la stessa di Pechino e quindi ti garantisco che se pensi a Banigiai non puoi pensare ai comfort, no scherzo. Sì, avevamo dei soldi in tasca e il telefono a differenza di Pechino Express però il disagio che abbiamo provato là l'abbiamo ritrovato sfortunatamente anche in questo programma. E' un programma di grande disagio. Allora, non possiamo fare spoiler sulle esperienze... Se vuol dire meno 27 gradi? Possiamo dire clima, molto stile. Più 40, anche 45 e meno 27 che di sera diventava meno 35. Quindi diciamo che, ecco, la natura ci ha remato contro. Partiamo con Helsinki che personalmente è una delle mie tappe preferite proprio perché mi sono divertita e poi perché non la conoscevo. Quindi in generale la Finlandia. Finlandia è un posto strano, è un posto veramente da scoprire. Invito le persone, insomma, se avranno voglia, occasione di farlo, un giro in Finlandia perché sono ai confini della realtà. Loro hanno delle... Ma sì, ma poi fanno delle attività assurde e fanno dei campionati proprio di queste attività assurde. Vedrete anche qualcosa in viaggi pazzeschi. E io mi sono sentita molto a casa. Tu Paride? No, perché a casa mia non faccio quelle cose lì. E non ci sono meno 27. Nemmeno in Abruzzo. Però no, dai, molto spesso poi uno pensa su tutte cose adrenaliniche di forza. Molte cose sono state anche molto intime. Di grande imbarazzo. Molto peggio, infatti. Allora, io devo dire, Paride, secondo me, è come preggio... Quanto ci sta a pensare al preggio? Allora, Paride è molto generoso e su tutti i fronti si dà tantissimo, anche da un punto di vista economico, molto generoso, sempre. E difetto... Sai che non lo so? Difetto? Ah, difetto è che quando siamo in aereo non mi parla. Lui detesta parlarmi quando siamo in aereo, cioè sempre. Quindi è in viaggio e io mi sento molto sola. Difetto che urla, proprio un problema, cioè dovrebbe curarsi. Per cui quella roba del Paride urlato è un problema vero, un difetto tremendo, perché spesso lo fa a questa distanza qua. Esatto. E no, preggio che alla fine tira fuori sempre il meglio e il peggio di me, perché mi fa fare le cose che io non avrei fatto. Se nella vita non avessi incontrato la Vicky, avrei vissuto meglio. Vero. È già incredibile essere qui a parlarle come amici e non aver... Invece ogni tanto quando vedi, non so, la fine di una produzione, di un film, così gente che non si parla più, che si odia, e noi dovremmo odiarci tantissimo dopo questa produzione, invece stranamente, no, siamo masochisti. Pensa che siamo qua solo per un contratto, invece ci vogliamo bene, pensa. Purtroppo, per te. Allora, vi invitiamo a guardare il 23 maggio alle 21.30 su TV8, Viaggi Pazzeschi, il programma più brutto della televisione italiana. Non potete perdervelo. Ragazzi, se vi piacciono i social e siete scatenati sui social, dateci dentro perché è il programma che fa per voi. Giusto. Was?